Accanto agli ultimi, contiene nei quartieri. L'iniziativa, lanciata a Palermo come città capofila, prevede una serie di tappe nei prossimi giorni per portare il vaccino contro il coronavirus anche a chi vive in situazioni di disagio o di marginalità sociale. Si è ripartiti oggi dal quartiere Zisa. Domani, dalle 9.30, si proseguirà allo Zen in via Girardengo, nei locali del laboratorio Zen Insieme. Giovedì, alle 15, una squadra di medici e vaccinatori apierà le immunizzazioni anche alla missione Speranza e Carità, fondata dal missionario laico Biagio Conte. Quarto appuntamento, venerdì, alle 9.30, in piazza Danisigni, alla parrocchia Sant'Agnese e al centro Padre Nostro, al quartiere Brancaccio, in via San Ciro, alle 15.30. Il vaccino è un diritto di tutti, anche in dieghe più svantaggiato, afferma Renato Costa, commissario Covid, di Palermo e provincia. Estendere le quartiere più difficili della città può consentirci di arrivare a persone che avrebbero problemi a recarsi nei centri vaccinali, ma non per questo deve essere loro negata la possibilità di proteggersi dal coronavirus. Queste persone quasi non realizzavano di avere il diritto di vaccinarsi, vivendo così ai margini, ma io credo che non esistano marginalità invalicabili. I nuovi appuntamenti della campagna accanto agli ultimi seguono le vaccinazioni alla Domus Carmelitana a Ballarò, dove il 26 aprile scorso sono stati immunizzati i primi 15 senza tetto che vivono in città, tra la strada, i dormitori e le strutture di accoglienza comunali. Il 29 aprile un secondo gruppo di persone senza fissa dimora ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson a Villa Zito, tra i quadri della Piracoteca della Fondazione Sicilia. Numerose le associazioni di quartiere che hanno voluto mettere a disposizione i propri locali per le immunizzazioni nell'ambito di accanto agli ultimi, affinché il vaccino sia davvero di tutti. Nelle prossime settimane saranno raggiunti anche i quartieri CEP e NOCE.